Le regioni dei muscoli e dei sensi nella mente cosciente e subcosciente sono legati insieme nei modi più impensati. In realtà il cervello ha un numero enorme di piccoli nervi che legano due segmenti di nervi tra loro e attraverso i quali tutte le parti della mente cosciente e subcosciente sono messe in contatto con le altre parti. Circa 10.000 milioni di fibre di associazione partono dalla mente cosciente e subcosciente. Il numero di connessioni tra loro raggiunge il numero di uno seguito da 15 milioni di cifre. Per stampare questo numero occorrebbe la carta che è servita per stampare 15 copie di questo libro. Nel cervello quindi i nervi che portano i messaggi sono legati tra loro nelle maniere più inconcepibili. Ciascuna di queste collezioni è rinsaltato nel cervello un certo elemento del sapere. I legami cerebrali non saranno mai saturi perché ci sono un'iguale delle macchie di sentimento del schema. E una cosa che di unico per il del nostro nostro corpo è interessante.